Segregate in un casolare recintato con filo spinato in condizioni igieniche disperate, la triste scoperta fatta nelle campagne di Marina di Lesina nel Foggiano dove i carabinieri hanno arrestato sei persone con l'accusa di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Finiscono in carcere Nazareno Emanuele Parigino di 73 anni di Lesina e i bulgari Maria Petrova di 24, Camelia Liubenova di 29, Maya Iankova di 35, Boiko Georgiev di 26 e Patia Petkova di 24. Per tutti si potrebbe figurare anche l'ipotesi di reato di riduzione in schiavitù, i cui profili sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. Le indagini che hanno portato al ritrovamento di quello che i carabinieri hanno definito un casolare lager sono iniziate grazie alla coraggiosa denuncia sporta da una ventenne bulgara. Nasce tutto da una denuncia che fa una ragazza che si presenta a San Paolo di Civitate, probabilmente si fa dare una mano da un cliente, questa ragazza attualmente è in località protetta e va dai carabinieri e comincia a raccontare insomma di essere stata costretta a prostituirsi. Sono tutte ragazze tra i 20 e i 25 anni, questa ragazza in particolare mi sembra fosse una ventenne, ci ha raccontato che purtroppo il copione è sempre lo stesso, era stata indotta a venire in Italia con la promessa di un lavoro, una volta arrivata in Italia gli era stato detto di andarsi a prostituire, lei non ha accettato, è stata picchiata, questo è il suo racconto, dopodiché è stata spogliata completamente dei suoi vestiti, gli hanno dato dei vestiti di scena, chiamiamolo così, vestiti che poi sono gli stessi che indossava quel giorno perché gli davano un paio di cambi non di più e l'hanno costretta ad andare per strada. Questi gruppi di persone, ci racconta, le davano esclusivamente quello che serviva poi per la consumazione dei rapporti, quindi anticoncezionali e quant'altro, ovviamente scalando poi da quello che erano i soldi che poi lei portava come incasso.